Sì, perché ragionando anche spesso sui sistemi di gioco, quando non sei dinamico muore tutto, quando non ti muovi e non vai forte come vanno forti gli altri, come oggi l'Atalanta che tra virgolette i primi 25 minuti ci ha distrutto dal punto di vista sia mentale, fisico, tecnico e non possiamo approcciare a queste partite. Come è già successo in passato, appena prendiamo un gol andiamo subito quasi in difficoltà, ne abbiamo presi 3 in 7 minuti, ma già ci è successo anche in precedenza, guardiamo le altre partite e in questo dobbiamo migliorare veramente, va proprio al di là dell'atteggiamento, capire che dobbiamo cambiare questo chip mentale perché le partite cominciano a farsi dure, cominciamo a ritrovarci un pochino. Devo dire che a differenza delle altre occasioni è mancata la prestazione, cosa che non era mai mancata in precedenza. Abbiamo fatto, specialmente nel secondo tempo, dei buoni 30 minuti, cambiando qualcosa, mettendo anche giocatori che attaccavano con maggiore frequenza la profondità, che è una cosa che ci stava mancando ultimamente. Per quello è tra virgolette l'unica nota piccola, così positiva che posso trovare all'interno di una gara veramente disputata da parte nostra non bene, per non dire malissimo. Devo dire che il mercato il gennaio non ci sta aiutando per niente, sotto tutti i punti di vista. Cosa mancano? Oggi anche lo dimostra che le caratteristiche per giocare in un determinato modo ci vogliono dei giocatori. Non so, non leggo, non vedo, non so, però a volte si parla di sistemi di gioco. Per fare certi sistemi di gioco ci vogliono giocatori con determinate caratteristiche. Oggi alla fine ho adattato per riprendere un po' la gara Brescianini a fare una sorta di quinto e abbiamo ridato un po' di equilibrio alla squadra, poi è uscito l'errore, è entrato Gelli. Un po' di adattamenti che però secondo me avevano ridato un po' di senso, un po' di equilibrio alla squadra e abbiamo fatto meglio. Detto questo, quello che è inaccettabile in questo momento è l'approccio che abbiamo avuto e quello che mi ha dato un po' fastidio, prendere il quarto, prendere poi magari il quinto e un po' tra virgolette, non dico mollare perché è una cosa che manco voglio sentire e nominare, però tra virgolette non stare in partita fino alla fine. Si perde, ma si deve perdere sempre non mollando niente, lottando su ogni pallone, onorando sempre al 100% quella che in questo momento rappresentiamo che è la maglia del Frosinone. Questa è una cosa che io non posso accettare, per quello d'ora in poi voglio sempre vedere atteggiamenti di grande serietà in ogni momento della partita.